grazie per l'introduzione è un vero piacere di essere qui con voi oggi per cominciare a presentarvi le cose che mi interessano avrò più occasioni in futuro spero quindi oggi sarà una breve introduzione su alcuni elementi soltanto per non prendere troppo tempo quindi il titolo della mia presentazione si chiama una nuova mappa della vita nell'oceano e vedrete spero di convincervi perché come siamo riusciti a fare questo è perché è anche importante vi ringrazio per la vostra presenza sono stato nominato membro di questa accademia prestigiosa l'anno scorso sono molto fiero molto molto contento di essere qui e di cominciare a far parte della della comunità allora se cominciamo all'inizio dell'esplorazione dei oceani questa è una lunga storia come potete apprezzare oggi abbiamo strumenti molto potenti per approfondire come funziona l'oceano abbiamo satelliti nello spazio abbiamo bue autonome migliaia intorno a tutti gli oceani del pianeta che prendono misure e abbiamo molto informazione della dei nostri oceani ma ovviamente non era sempre così l'esplorazione l'esplorazione è cominciato secoli fa cercando nuovi territori soprattutto e lo chiamiamo anche l'epoca di grandi viaggi vediamo come un'epoca romantica no di dell'esplorazione della terra quello che non ci rendiamo conto necessariamente ecco lo scopo di questa esplorazione era soprattutto commercializzazione dalla ricerca di nuove piante nuovi animali che possono essere utilizzati sfruttati per costruire i ampi di britannici francesi altri eccetera e ci sono numerosi esempi caffè e te cacao cauccio cotone tutte specie che sono stati trovati in america del sud o altrove che poi sono stati commercializzati a livello globale questo commercializzazione sfruttamento del dell'oceano continua anche oggi però le sfide sono un po diverse io ho listato qui giusto alcune nuove opportunità che si presentano oggi hanno soprattutto al mondo industriale nuovi metodi di pesca e l'addizione dell'acquacoltura alle attività marine sono sono relativamente nuove si può alcuni vanno verso una pesca pesca ancora più industriale altri vanno verso una pesca artigianale ci sono diversi interesse ci sono anche molti interessi nell'estrazione di minerali dal fondo marino che rischiano di provocare tanti danni c'è molto interesse nell'energia i parchi eolici offshore parisi per esempio è un'attività nuova che è molto importante nel settore energetica agricoltura ci sono persone ci sono ditte ci sono interesse a coltivare le alghe non solo per l'alimentazione ma anche per servire come fonte di di plastica per sostituire il carburante a fossile anche questo è un settore molto attivo e poi ci sono geni molecole e organismi potenzialmente interessati per la biomedicina per applicazioni nell'industria eccetera a fianco a tutto questo c'è la conservazione la preservazione della della natura del dei ecosistemi marini e ci sono anche tante possibilità di lottare contro il cambiamento climatico sequestrando il co2 dall'atmosfera nel fondo dell'oceano quindi tutte queste cose sono giusto alcuni esempi di cose in corso in questo momento che però è un po difficile considerare insieme con il fatto che che l'oceano è il nostro sistema di sostegno alla vita è veramente senza e l'oceano noi la terra che noi conosciamo non non esiste non esisterebbe l'oceano cattura un terzo cerca delle emissioni umane di co2 cattura il calore quindi così facendo regola la temperatura del del pianeta e poi la vita oceanica produce una metà del dell'ossigeno sulla terra tramite la fotosintesi quindi dobbiamo considerare questi aspetti di sostegno alla vita insieme con con questi nuovi idea di sfruttare l'oceano in diversi sensi per far breve dobbiamo conoscere meglio l'oceano il mio contributo negli ultimi anni è stato soprattutto attraverso questo progetto chiamato tara oceans è un progetto utilizzando una una nave di ricerca un po particolare perché è una barca a vela è una barca a vele di trentasei metri con un equipaggio di quattordici persone a bordo soltanto è una barca a vela però si adatta alla ricerca alle ricerche nel nostro caso di esplorare la vita nei oceani e di meglio capire la loro sensibilità ai cambiamenti climatici la fondazione tara ocean è il proprietario della della nave e loro danno lo mettono a disposizione dei scienziati come noi scienziati che hanno dei progetti che secondo loro sono interessanti quindi tara oceans ha esplorato la vita negli oceani ma se pensiamo un attimo allora dov'è questa vita se noi se andiamo a fare una passeggiata in campagna in una foresta vediamo la vita intorno a noi no vediamo le piante e alberi insetti uccelli eccetera ma quando guardiamo l'oceano si può avere l'idea che non c'è vita che c'è molto poco però non è assolutamente vero ci vuole fare giusto un microscopio una volta che guardiamo l'oceano con un microscopio vediamo un'esplosione di vita tante forme microscopiche che hanno loro i ruoli più importanti nella gestione dell'oceano ho messo questi organismi al centro di questa diapositiva li chiamiamo plankton ma si può anche considerare questi organismi come il microbioma il microbioma dell'oceano esattamente come il microbioma umano assicura lo stato di salute dell'oceano assicura lo stato di benessere dell'oceano facendo tante attività di reciclaggio di generazioni di di materiale organica di tanti 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 attività anche di di tossificazione di dei insulti inquinamenti che noi buttiamo frequentemente ai oceani quindi noi attraverso una spedizione su quattro anni intorno alla terra intorno a tutti gli oceani del pianeta su quattro anni abbiamo raccolto intorno a 40 mila campioni facendo parte di un consorzio che si chiama tara oceans e abbiamo analizzato i dati i campioni soprattutto attraverso la microscopia per vedere gli organismi che cosa sono e attraverso la genomica sequenziamento del dna eccetera e abbiamo grazie a questo questo sforzo notevole di un gruppo di persone cominciamo ad avere un'idea un'idea compreensiva della vita nei oceani ok che rappresenta 90 per cento della vita il mondo microscopico rappresenta 90 per cento della biomassa nei oceani abbiamo quindi un'idea di quanti batteri ci sono dell'ordine di 35 mila tipi diversi di batteri abbiamo una cifra intorno a 50 milioni del numero di geni presenti in questi organismi abbiamo caratterizzato fino in fondo i virus ci torno più tardi e anche i carioti unicellulari protiste abbiamo caratterizzato un bel numero con più di cento milioni di geni caratterizzati quindi attraverso questo sforzo abbiamo pubblicato molti paper noi e essendo open access accessibile a tutti siamo abbiamo anche avuto una certa notte notte nottorietà a livello internazionale questo per esempio un editorial che è apparso su nature l'anno scorso circa un anno fa che che parla di quello che abbiamo fatto in vent'anni perché ha fatto la tara la nave su vent'anni di esplorazione quindi questa chiaramente una bella soddisfazione e essendo poi un una banca dati molto comprensivo a livello globale accessibile a tutti molte persone l'hanno usato oggi ci sono più di mille articoli che utilizzano questi dati e sulla base di ciò penso che possiamo dire che finalmente per la prima volta abbiamo una specie di punto zero dello stato dei oceani planetari all'inizio del ventunesimo secolo non abbiamo mai avuto questo prima e quindi questo ci apre tante possibilità per vedere come l'oceano ha cambiato rispetto al passato e come cambierà in futuro rispetto a rispetto a adesso quindi possiamo pensare al cambiamento climatico come ha influenzato già l'oceano e come influenzerà in in un futuro ma oggi non parlerò di questi aspetti parlerò invece della della fotosintesi quello che abbiamo imparato utilizzando questi banchi dati per capire meglio la fotosintesi come funziona nei oceani allora grazie a una quarantina d'anni di osservazioni satellitari che misurano la clorofilla su terra e nei oceani apprezziamo oggi che l'oceano contribuisce una metà della fotosintesi su terra ok quindi è abbastanza importante e questa è una visione della fotosintesi planetare che abbiamo con cui possiamo calcolare la produttività della fotosintesi l'altra visione che abbiamo è un po' l'opposto è la visione dal microscopio abbiamo gli organismi, diversi organismi che contribuiscono alcuni sono prokaryoti, ciano batteri e altri sono per esempio diotomea che è il mio organismo preferito insieme con dinoflagellati, altri organismi eccetera allora quello che noi abbiamo fatto per capire meglio chi fa cosa e dove per quanto riguarda la fotosintesi abbiamo cercato di mettere insieme diversi tipi di informazione una cosa che abbiamo fatto è di mettere a punto un gene marcatore per tutti gli organismi fotosintetici si chiama PSBO, è un gene copia singola tipicamente in tutti gli organismi batteri e eucarioti quindi con questo gene, con la quantificazione di questo gene possiamo vedere quali sono gli organismi presenti in diversi luoghi e qui con questa carta, diverse carte, vediamo insieme i prokaryoti fotosintetici e i eucarioti fotosintetici quindi per la prima volta è possibile quantizzare tutti e due vediamo i ciano batteri nei primi tre carte e poi abbiamo diotomea, dinoflagellati eccetera e vediamo la grandezza del cerchio e l'abbondanza di ogni organismo e i colori rappresentano la diversità andando dal basso all'alto quindi questa è la prima volta che riusciamo ad avere carte del genere e perché in Tara Oceans abbiamo fatto frazionamento per taglia degli organismi possiamo eventualmente arrivare a sapere abbondanza relativa di tutti i diversi organismi e anche biomassa quindi questo ci dice quanto carbonio veramente entra in questi diversi organismi in diversi luoghi dando un'idea dell'attività fotosintetica basata su questo gene però poi possiamo anche andare oltre collegando questa informazione molecolare dai geni microscopi eccetera con le informazioni satellitari dei ultimi 40 anni di studi dai satelliti quindi possiamo cercare di colmare il divario tra i dati satellitari da un lato e i dati in situ molecolare dall'altro riguardo la biodiversità è possibile rifarlo attraverso una cosa in mezzo ai pigmenti fotosintetici che possiamo quantizzare in un campione di acqua di mare e attraverso una classificazione di neural network siamo riusciti a mettere insieme questi dati permettendoci di studiare la relazione fra la biodiversità e il funzionamento dell'ecosistema quindi questa è una relazione molto importante che riguarda i servizi ecosistemici i loro rapporti con la biodiversità eccetera che sono informazioni molto importanti per gestire meglio il nostro pianeta è molto difficile studiare questa relazione a mare e non è veramente stato fatto prima di questi tentativi ma praticamente quello che abbiamo fatto quello che vedete qui è da un lato biodiversità sull'asso ex axis e produttività sull'altro quindi paragoniamo la biodiversità con la produttività del sistema e se guardiamo l'oceano globale abbiamo un rapporto così quindi più biodiversità c'è più produttività c'è questo è tipo la foresta dell'Amazzone c'è tanta biodiversità tanta produttività che è più o meno quello che aspettavamo però con questo tipo di sistema possiamo definire diversi sistemi presenti per esempio il sub-antarctic front che è la parte verde qui ha un rapporto più biodiversità c'è meno produttività c'è ok nell'Antartide la parte gialla abbiamo un rapporto binomiale con un'ottima di biodiversità un tasso ottimale di biodiversità dove la produttività è più alto e poi scende dai due lati e poi nell'equatore la parte blu vediamo un altro rapporto fra biodiversità e produttività quindi così facendo riusciamo a meglio capire il CO2 dell'atmosfera dove va nell'oceano quali organismi e dove dove va con quale rapporto eccetera quindi ritengo che questa è un'informazione importante per il futuro per capire meglio il funzionamento del nostro oceano per quanto riguarda la photosintesi non non finisce là perché abbiamo anche anche scoperto che anche i virus partecipano nel tempo che rimane qualche minuto forse volevo parlare un po' dei virus nell'oceano perché sono veramente impressionanti le cose che abbiamo abbiamo trovato abbiamo trovato per esempio i virus che hanno acquisiti geni della fotosintesi nei loro genomi ok? questo sembra folle no? un virus che tipicamente è un genoma molto piccolo all'interiore di questi genomi molto frequentemente troviamo geni per la fotosintesi di PSBA per F eccetera ok? a fianco geni strutturali funzionali dei virus quindi questo ci ha incuriosito molto è stato scoperto più di vent'anni fa questo questo fatto andando a studiare più in dettaglio i dati di Tara Oceans abbiamo capito meglio quali sono i geni che sono stati acquisiti dai virus e sono tipicamente geni molto importanti che controllano i step limitanti nella fotosintesi ok? quindi in questa maniera si pensa che i virus invece di utilizzare i i componenti della fotosintesi dei loro ospiti che stanno infettando producono loro queste proteine e invece di produrre altre batterie producono più virus veramente una forbezza che vediamo con questi virus impressionanti ma poi non finisce l'apri e non è solo la fotosintesi che è stato preso in mano dai virus ma se andiamo più in dettaglio e vediamo più in generale tutte le vie metaboliche che conosciamo nei microbi nei batteri ci sono 340 vie metaboliche note nei batteri e nei dati di Tara Oceans abbiamo visto che i virus hanno catturato 130 di questi quindi veramente è un'informazione molto notevole che dice i virus sono là non solo per fare infezioni per contribuire alla patogenesi eccetera ma anche in tanti 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 altri ruoli quindi penso i virus veramente ci hanno aperto gli occhi a quanto poco conoscevamo sulla biologia degli oceani e i virus in generale abbiamo finora rivelato un numero senza precedenti di virus oceanici tra cui fila completamente nuovi nuove fila di virus abbiamo scoperto fagi giganti ci sono tanti virus giganti anche abbiamo visto che partecipano ai processi biogeocimici biogeocimici con la fotosintesi trasferimento genico co-evoluzione virus ospite con questo esempio della geni per la fotosintesi mostra insomma che questo è un tema importante e poi non ho mostrato i dati ma i geni presenti nei virus giganti forniscono indizi sull'origine dei componenti cellulari di base abbiamo virus che contengono tubulin actin geni di questo tipo che sono alla base della struttura di una cellula eucariotica e si pensa che l'origine di questi geni forse sono i virus o almeno i virus hanno partecipato quindi per concludere questa breve presentazione ho cercato di mostrarvi che il nostro approccio che è un approccio di biologia dei sistemi per capire l'insieme del sistema che ha fatto luce su un complesso ecosistema invisibile su scala globale sono state fatte molte nuove scoperte sulla vita nei oceani al di là di quello che abbiamo scoperto noi insieme con una grande quantità di risorse ad accesso libero che tutti possono usufruire e infine questo banca dati fornisce una specie di punto zero dello stato dell'oceano globale all'inizio del ventunesimo secolo che possiamo utilizzare per meglio comprendere processi importanti come la fotosintesi che vi ho mostrato e anche per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ecosistemi marini che vi racconterò in altre occasioni sicuramente quindi io mi fermo là ringrazio i finanziatori della parte spedizione di questo progetto in basso che hanno finanziato la barca per fare il viaggio intorno al mondo i finanziatori della ricerca i finanziatori della ricerca e poi il consorzio Tara Oceans che comprende anche la stazione zoologica di Napoli allora grazie a loro e grazie a voi per la vostra attenzione e noi ringraziamo te per la presentazione avendoci fatto vedere come l'oggetto dei tuoi studi è tanto importante per tutti noi grazie però adesso ascolterai qualche domanda vuoi no? sì come no allora sentite io ci vedo poco però riconosco Paola Paola che nell'ordine poi Roberto li sto vedendo mentre giù in fondo grazie Chris per questa bellissima presentazione veramente fantastica in tutti i vostri dati avete trovato quelle alghe che sono emerse adesso che contengono quel nitrosoma che fissa probabilmente il nitrogen sì 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 sarei molto curiosa dell'avere idea della proporzione se sono numerose o se è un qualcosa di straordinariamente raro sì 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 un'eccellente domanda di qualcuno molto competente nella materia fissazione dell'azoto la fissazione dell'azoto nei oceani è equivalente di quello su terra incredibile l'importanza anche nei oceani della fissazione dell'azoto ovviamente non ci sono piante leguminose nell'oceano però ci sono altri simbiosi che sono noti e che abbiamo quantizzato con i nostri dati tra cui questo qui che è stato descritto recentemente che contiene un organello nuovo nitrogenosome si chiama quindi una cellula eucariotica con un organello per fissare l'azoto questa è completamente nuova come idea è stato pubblicato non mi ricordo su Nature Science giustamente e sì attraverso i nostri banchi dati abbiamo dati genomici quindi possiamo cercare i geni NIF eccetera i operon vedere da questo punto di vista e abbiamo anche milioni di immagini delle cellule sempre accesso libero a tutti che possiamo andare a cercare questi organismi e sì ci sono ci sono ci sono ci sono non sono abbondantissimi però fanno una parte importante della comunità di organismi fissatrici di azoto ci sono cianobatteri ci sono batteri eterotrofici che partecipano alla fissazione dell'azoto ma è un campo molto ricco Roberto Roberto Bassi Roberto Bassi Roberto Bassi grazie Chris è veramente bello attuale direttore del DOR sì io notavo una cosa nei tuoi dati e cioè una anche in quelli preliminari sul ciclo del carbonio allora il ciclo del carbonio sulla terra abbastanza ben definito e ha a che fare con i rapporti fra respirazione e fotosintesi e mi pare però che nell'oceano ci sia una notevole differenza fra la percentuale di ossigeno che viene prodotto nel mare e la percentuale di anidride carbonica che viene fissata non sono molto equivalenti e mi chiedevo se tu avessi delle idee per capire questa differenza sì è molto curioso se ho detto che l'oceano contribuisce al 50% della fotosintesi su terra questo è un dato abbastanza certo direi però se andiamo a vedere la biomassa la terra è verde sono piante dappertutto ma l'oceano non si vede non vediamo gli organismi fotosintetici da un lato sì ok sono microscopici sono alghe unicellulari che spiega parzialmente la differenza e poi c'è anche un funzionamento opposto della struttura della 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 catena alimentare su terra abbiamo un piramide con le piante i primary producers alla base e poi man mano saliamo le tigre leoni eccetera all'apice sono in pochi ok questo è il piramide classico di una rete alimentare nell'oceano è l'opposto ok e questo probabilmente è perché gli organismi sono consumati molto molto rapidamente quindi la fotosintesi è efficace produce materia prima le alghe che poi sono mangiati subito dai organismi più più alti quindi ci sono numeri più importanti dei consumatori che dei produttori nel mare e questo penso spiega un po' dove perché ci sono queste differenze e dobbiamo chiaramente prendere questa informazione in considerazione per per avere un'idea di dove il carbonio nel sistema perché senza questa informazione non possiamo capire l'impatto dell'aumento di CO2 nell'atmosfera sulla biodiversità eccetera quindi c'è varie cose e poi c'è la respirazione ovviamente che gioca anche là un ruolo importante anche nei consumatori della produzione primaria certamente va bene adesso c'è Schiaffino grazie Chris per questa bellissima presentazione e ti voglio chiedere questo facendo misure ripetute di genomica dei vari geni dei vari genus dei batteri che hai si può stabilire eh l'impatto relativo sull'evoluzione batterica del trasferimento laterale rispetto ai meccanismi chimici più classici come le mutazioni singole eccetera o dellezioni inserimenti ehm è difficile di dare una risposta netta chiara eh a questa domanda ehm perché è difficile ehm arrivare a una quantificazione di trasferimento genico eccetera ehm è molto frequente trasferimento dei geni acquisizioni di geni da uno all'altro certamente molto frequente eh l'oceano essendo liquido favorisce eh sicuramente il trasferimento di materiale genetico i virus contribuiscono i trasposoni contribuiscono ehm eh abbiamo trovato vescicole nell'oceano dei trasposoni per esempio ci sono trasposoni particolari che che sono ricoperti in una membrana che poi eh passano attraverso passano da 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 alcuni batteri altri quindi c'è una base molto ehm importante per il trasferimento di materiale genetico ehm è il fatto che abbiamo popolazioni di organismi molto importanti eh vuol dire che non è solo il la singola cellula che è importante ma il contesto della popolazione che conta molto ehm eh eh ci sono eh indizi suggerendo che alcuni di questi organismi hanno meccanismi di di mantenere una diversità genetica ehm anche se non fanno la riproduzione eh sessuale frequentemente dividono eh mitoticamente la maggior parte degli organismi ma nonostante ciò sono capaci di mantenere un tasso molto alto di diversità genetica a livello della popolazione quindi sono nuovi meccanismi da scoprire eh che saranno molto interessanti da da capire in un contesto ambientale a livello di una popolazione di organismi allora abbiamo schiaffino che aveva eh e poi bolognesi e poi ok e poi e neri eh sì ciao e quindi che eh poi dovremo chiudere eh quindi con questa triede è tutto talmente interessante che ci dispiace dover allora allora io ho evolutive però normalmente si dice che la vita è comparsa negli oceani e dopo si è trasferita sulla terra quindi non c'è un'origine di qualche forma di vita autoctona nella terra deriva tutta dagli oceani giusto? questa è l'ipotesi forse più creduto in questo momento ora quando si pensa a questo evento così interessante le persone ignoranti come me pensano ai pesci che perdono le pinne prendono le zampe perdono le branchie prendono i polmoni ecco andando invece più a fondo sulla base anche dei nuovi dati eh che che idea ti sei fatto quello che è successo? si è perso moltissime forme di vita passando dagli oceani alla terra si si sicuramente ehm ehm se consideriamo l'albero della vita eh eh eucariotiche eh ci sono gli animali ok? ci sono i funghi ci sono le piante ehm che apprezziamo eh nel nostro mondo terrestre ecosistema terrestre ehm però ci sono tante altre forme di di vita eucariotiche eh che conosciamo poco conosciamo alcuni perché sono parasiti dell'uomo tripanosomi leishmania eh paramissiam plasmodium questi organismi che ci danno un po' fastidio diciamo sono singole cellule eh eucariotiche eh note come parasiti però sono la gente non non ci pensa tutti i giorni di questi organismi noi consideriamo la vita se pensiamo alla vita piante animali funghi e poi tutto il resto lo dimentichiamo per gli eucarioti nell'oceano invece c'è tutto un range di organismi eucariotici eh pochi pochi studiati la maggior parte non abbiamo in cultura quindi non sappiamo che cosa fanno un esempio ehm la 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 gli organismi i più diversificati nell'oceano si chiamano diplonemidi questi sono l'equivalente degli insetti su terra gli insetti sono i più diversificati ehm quindi sono i più diversificati nell'oceano probabilmente nessuno di voi ha mai sentito parlare dei diplonemidi per noi la stessa cosa quando abbiamo avuto questa informazione ehm non sappiamo perché sono così diversificati non sappiamo che cosa fanno perché non abbiamo rappresentativi in cultura che possiamo studiare ehm quindi ci sono tante cose da da scoprire anche ehm se prendiamo tutto l'albero ehm della vita eucariotica ehm ci sono un un terzo delle sequenze che ehm che sequenziamo che non possiamo mettere sull'albero della vita nota un terzo non riusciamo a capire di che organismo si tratta si sono venuti dallo spazio sono non sappiamo abbiamo giusto informazione sulla sequenza sono solo negli oceani finora sono state trovate solo negli oceani ehm sì a mia conoscenza sì 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 quindi ci sono tante forme ehm molto diversificata ehm ehm forse anche perché la vita si è evoluta nei oceani ehm quattro miliardi di anni fa ed è mantenuto una ehm una flessibilità nel ehm nell'adattarsi all'oceano ehm mentre forse la vita su terra è più ehm contingente forse è più difficile vivere su terra ehm problemi di luce ultravioletta eh siccità mancanza di acqua chi lo sa eh e forse la vita fondamentalmente più eh diversificata eh nell'acqua forse grazie una domanda veloce a causa dell'aumento della CO2 di quanto si acidifica l'oceano e eh è un fenomeno localizzato o è uniforme su tutta la sfera terrestre ehm sì eh è un puro fatto chimico CO2 più acqua fa carbonato bicarbonato che sono acidi eh quindi non c'è niente da fare più CO2 c'è nell'atmosfera più c'è eh buffering con con l'oceano ehm non è facile misurare il pH ehm eh fuori eh un laboratorio quindi solo dai anni dai anni ottanta abbiamo i metodi per misurare accuratamente il pH nell'oceano per esempio e abbiamo adesso diverse eh sonde ehm in tutti gli oceani del mondo che misurano il pH l'acidità e l'alcalinità dei oceani e dappertutto vediamo l'aumento non c'è nessun dubbio ehm eh però alcune zone si ehm sono eh si stanno acidificando più velocemente degli altri per eh per vari motivi tipicamente fisico-chimici eh circolazione delle acque eccetera rapporto fra superficie e acqua profonda eccetera però è un fenomeno eh globale dappertutto però alcuni siti sono più eh 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 rispetto a altri bene tocca a Giancarlo Neri a concludere eh la serie di domande per te grazie io ho una domanda un po' meno tecnica delle precedenti in particolare vorrei chiedere se è stato possibile già eseguire delle stime scientificamente comunque significative per esempio dell'impatto eh degli agenti inquinanti quindi non mi riferisco tanto all'influenza della CO2 ma proprio gli agenti inquinanti in senso stretto eh sul ehm sul rate per esempio di decadimento di certe specie particolari e mi rendo conto che la domanda diciamo non ha una grandissima levatura scientifica però penso che sia importante anche come contributo ehm mediatico da fornire da offrire anche per la sensibilizzazione delle popolazioni sì 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 ottima domanda la ringrazio è effettivamente l'inquinamento della terra è un altro problema al di là del cambiamento climatico CO2 metano eccetera la quantità di di molecole sintetiche costruite da noi nell'ambiente è astronomico ci sono antibiotici ci sono pesticidi ci sono medici ci sono tutta una serie di molecole che che sono che non sono naturali ehm eh e quindi che effetti hanno eh spesso difficile sapere poi delle volte gli organismi i batteri riescono a a a a modificare la molecola ehm quindi ci sono anche tutta una serie di di molecole derivanti dai antibiotici eccetera che sono presenti nella nella nell'ambiente ehm non siamo in grado di quantizzare tutti i danni eh provocati da 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 questo nel suolo per l'agricoltura per gli ecosistemi terrestri oceanici ehm quindi molte cose da scoprire ancora però ehm in questo momento Tara sta lavorando in Europa ehm facendo un giro ehm di tutta l'Europa ehm insieme con un laboratorio mobile terrestre che segue tutti tutti ehm gli ecosistemi ehm che interfacciano terra e mare per vedere come ehm come la biodiversità in questi in in questa interfaccia molto delicato sensibile molto toccato dell'uomo e stanno ehm misurando questo con EMBL ehm che è stato citato prima ai laboratori di biologia molecolare ehm europea che ha costruito un laboratorio mobile ehm che sta in un container che gira in tutta Europa con Tara a mare e questo camion su terra e fanno campionamento di tutti e due gli ecosistemi ehm ehm e la novità ehm ulteriore di questo progetto è che fanno anche analisi chimici ehm EMBL ha la capacità di misurare eh i spettrometri di massa eccetera eh tutta una serie di molecole e quindi possiamo mettere eh eh insieme dati biologici sulla biodiversità dei microorganismi quali geni sono attivi eccetera insieme con i dati chimici e questo ci aiuterà eh speriamo a definire eh un eh un indice di salute di un ecosistema eh basato su sui inquinanti che sono presenti e i batteri i microbi che che stanno insieme questa è l'idea Tara adesso sta a Napoli e gira in tutta l'Italia per continuare fino a fino in Grecia e sarà a Venezia eh il tra i cinque e dieci giugno se qualcuno vuole visitare la barca sarà a Venezia inizio giugno a inizio giugno e attivare le inizio giugno a che è inizio giugno a